I ragazzi di CDD e CSE salgono anche quest'anno su un palcoscenico per presentare uno spettacolo teatrale dal titolo La Ciapp Sei Tu. Cosa dobbiamo aspettarci? Beh, sicuramente è uno spettacolo divertente. Il titolo richiama, insomma, un supermercato famoso per cui appunto è l'ambientazione, è tra le corsie di un supermercato e rappresenta un po' quello che quotidianamente tutti noi magari ci troviamo a vedere quando andiamo a fare la spesa con una sorta di ironia e insomma ilarità su alcune cose appunto che succedono o alcune pubblicità che si vedono alla televisione. Sì, siamo al settimo anno di spettacoli teatrali che vedono appunto coinvolti le persone con disabilità che frequentano i due servizi che la cooperativa sottosopra gestisce, il CDD e il CSE. E resta comunque per noi un'esperienza importante e che vogliamo riproporre anche quest'anno, anche perché nel corso degli anni la gente che si è affezionata a questa iniziativa è aumentata e ci chiedono proprio anche quando ci saranno di nuovo questi spettacoli. La voglia di esserci e di fare questa attività è nostra ma è anche e soprattutto dei ragazzi che con l'esperienza teatrale, con il laboratorio che loro iniziano a frequentare a settembre in cui lavorano sulla corporità, sulla voce, sullo stare su un palco, sull'attesa anche dei tempi degli altri diventa poi il frutto di un lavoro che loro vogliono rappresentare e far vedere anche agli altri anche perché dal mio punto di vista in queste occasioni noi riusciamo anche a portare in scena quelle che sono tutte le loro capacità e la bellezza di quello che loro di fatto fanno in genere nei servizi e che magari non tutti riescono a vedere. E invece con lo spettacolo anche chi non frequenta i nostri servizi, chi non ha occasione quotidiana di incontrare la disabilità può vedere quello che questi ragazzi fanno e sono bravi a fare. Per cui per noi davvero l'esperienza dell'attività teatrale e dello spettacolo poi teatrale ha proprio un po' questo significato. Quest'anno le rappresentazioni che faremo saranno due serali e due la mattina coinvolgendo anche le scuole. Per cui l'anno scorso abbiamo fatto questa esperienza che è stata molto ricca, quella di incontrare anche la scuola e quindi quest'anno abbiamo allargato un po' la richiesta a tutti gli istituti comprensivi e due istituti comprensivi hanno accettato la nostra proposta per cui ci ospiteranno e i ragazzi appunto vedranno lo spettacolo teatrale la CHAP sei tu che è divertente ma fa anche un po' riflettere per cui noi speriamo di incontrare tanta gente come è sempre stato. Non resta che elencare le date. Esatto sì, la prima sarà il 10 di aprile al Sala Teatro di Ardesio, nell'Oratorio di Ardesio alle 20.45. Il 24 di aprile alla Sala Cristallo, al Cinema Cristallo di Cassione della Presolana sempre alle 20.45 e dopo questi due spettacoli ci sarà anche un piccolo buffet offerto gentilmente dai genitori e dei familiari dei nostri attori. E poi la mattina invece lo faremo a maggio, il 16 di maggio a Gorno nella Sala Teatro dell'Oratorio alle 10 del mattino e a Villa di Serio il 23 di maggio sempre alle 10 del mattino. Oltre agli educatori, agli operatori che lavorano quotidianamente con i ragazzi ci tengo particolarmente a ringraziare tutti i volontari che anche loro settimanalmente ci accompagnano in questa esperienza in particolar modo a quello che è il regista, che è Bortolo Palamini che è comunque anche un po' l'ideatore della trama, dello spettacolo.